Ultimo allenamento in Italia prima della Supercoppa di Pechino. E questo è quello che è accaduto quest'oggi, in questa giornata, qua al Centro Morati di Appiano Gentile. Sì, perché la doppia sessione di allenamento, mattina e pomeriggio, organizzata da Giampiero Gasperini, è stata l'ultima. E domani c'è la partenza per l'Irlanda. Dall'Irlanda si andrà direttamente in Cina per preparare la Supercoppa. Ma prima bisogna preparare questa partecipazione alla Dublin Cup, manifestazione prestigiosa, in questo bellissimo nuovo stadio e allora ecco che per le sfide contro Celtic e Manchester City Gasperini oggi ha effettuato un lavoro importante dal punto di vista della tattica, soprattutto nella sessione del pomeriggio. Mattinata che ha visto il gruppo compattarsi con un buon lavoro, un po' più di lavoro fisico nella sessione della mattina, invece lavoro più su tecnica, tattica, partitelle con la ricerca della rapidità e quello che può servire per preparare queste sfide nella sessione del pomeriggio. Da segnalare che alcuni giocatori stanno lentamente, piano piano, riavvicinandosi al gruppo, anche se per i vari cordobas Jonathan continua ad esserci una personalizzazione del lavoro. Loro stanno recuperando da problemi di natura fisica. Si è rivisto lavorare con i compagni, anche se con una sessione personalizzata, ma sul campo portiere di Gennaro. Ricordiamo che sta completando il lavoro di recupero dopo l'infortunio che l'ha tenuto di fatto lontano dai campi quasi per tutta la passata stagione. Era in forza alla primavera. Quindi un allenamento importante, un allenamento che nell'arco dei 180 minuti tra mattina e pomeriggio, con sosta e anche qualche riunione per vedere qualche filmato che è sempre importante e utile, ha visto Gasperini lavorare per preparare prima le due sfide della Dublin Cup e poi mettere le basi per quello che sarà invece l'appuntamento del prossimo 6 di agosto in quel di Pechino. Al termine dell'allenamento poi la lista dei convocati, cioè quali sono i giocatori che parteciperanno a questa trasferta. Sono 25. I portieri sono Giulio Cesar, Castellazzi e Orlandoni. I difensori Cordoba, che si unirà il gruppo però a Parigi. L'Inter partirà da Parigi, quindi Dublino-Parigi, Parigi-Pechino. Continuiamo con l'elenco dei difensori. I caldirola, Ranocchia, Samuel, Kivu, Faraoni, Santon, Bianchetti, Nagatomo e Natalino. I centrocampisti Stankovic, Tiago Motta, Sneijder, Alvarez, McDonnell-Mariga, Joe Lobby, Crisetic e Montari. Gli attaccanti Pazzini, Eto'o Pandev e Castagnos. Questo è l'elenco dei 25 che si prepara prima per la Dublin Cup e poi per la Supercoppa. Per tutte le altre notizie sulla giornata odierna, l'invito è quello di seguire attentamente gli appuntamenti con l'informazione di Interchannel.